Sognavi, ti aspettavi un esordio diverso con la maglia del Pescara? E' arrivata questa sconfitta una brutta sconfitta? Sì, sicuramente sognavo un esordio diverso. Purtroppo la partita è andata così, abbiamo molto da recriminare perché probabilmente non ce la siamo giocata al massimo dalle nostre potenzialità però bisogna anche ammettere che c'era una squadra in campo, il Lecce, che il primo tempo ci ha messo parecchio in difficoltà e dopo due gol è stato molto difficile per noi cercare di giocare la palla. Difficoltà fisica o difficoltà tattica secondo te Giovanni? Secondo me entrambe, loro sembravano che andassero il doppio di noi, è sensazione mia e poi anche nostra, è sensazione che si avvertiva dal campo. A livello tecnico loro cercavano sempre le imbucate, molte volte ci riuscivano e creavano il 3 contro 2, superiorità numerica oppure la palla alta sulla mantia e ci mettevano parecchio in difficoltà. Ne parlavamo anche con Ciofani qualche istante fa, ennesima sconfitta in uno scontro diretto, ennesima sconfitta in trasferta, cosa c'è che non va? Io sono arrivato da poco e ciò che posso dire è che a volte fuori casa, almeno le partite fatte fuori casa, sembrano differenti rispetto a quelle fatte in casa, non so se sia una questione mentale oppure magari dell'ambiente che condiziona, giocare fuori casa comunque non è facile, soprattutto anche qui perché loro venivano da un 7-0 importante, erano molto galvanizzati, anche il pubblico che li spingeva, però adesso rimbocchiamoci le maniche perché mercoledì c'è un'altra partita importante, è inutile recriminare e andiamo avanti.